Nel 2007 a Lucignolo, la trasmissione televisiva di Italia 1, ci fu una puntata in cui si ebbe modo di conoscere le zocorine. Queste ragazze, per l'appunto, sono molto famose, sono diventate molto celebri grazie proprio al fenomeno virale che hanno proposto in radio a Radio 105, se non vado errato. Infatti costoro queste ragazze, in qualche maniera, o meglio in quel servizio, di alcuni anni fa, per l'appunto, si vedevano toccate a livello epidermico e si vedevano per l'appunto con la Nutella stampata di dietro in alcune circostanze, ma tutte rigorosamente mascherate, ma sempre pronte a togliere la mascherina. Sexy, più che mai queste ragazze, lo dico senza falsa retorica, mi hanno profondamente lasciato soddisfatto. Perché, come direbbe il buon Andrea Ripley, queste ragazze sono effettivamente delle opere d'arte mobili, sono delle ragazze fenomenali, esteticamente bellissime, ma soprattutto capaci di far emozionare gli altri. Io vorrei solo dire questo, possiamo essere contenti nel apprezzare queste ragazze che hanno avuto la facoltà, hanno avuto, chiamiamola l'idea, di mettersi davanti alla videocamera e ad essere genuine per quel che sono effettivamente. Beh, ne sono convinto che molti di voi si ricorderanno di loro perché sono convinto che quella puntata sarà rimasta nelle vostre memorie, perché avrete avuto certamente, se siete uomini, come il sottoscritto, delle, come dire, dei benefici a livello fisico, nell'ammirare, nell'apprezzare la marcata sensualità di queste magnifiche fanciulle. Detto ciò, ringrazio a voi tutti per l'ascolto, dunque un fenomeno via del zoo coline che ancora oggi viene visto e viene appunto discusso nel web e non solo. A queste ragazze dico di proseguire nella loro attività di zoo coline, allo zoo di 105, quindi nel loro impegno per far emozionare noi uomini e a riuscire a farci avere benassato il morale. Iscrivetevi, commentate, un saluto a voi tutti.